Gioca Frida, gioca, gioca con Totò, guarda come corre Gioca, gioca, vai Totò, gioca E' visto uno grazie, l'ultimo sì Hai chiamato per pedagli E così, lo vanno Due o tre giorni, sì, a lunga durata Adesso lei si respende, sta mangiando due o due giorni, quindi fra poco te avremo mangiare Prima mattina, prima mattina Prima di lavare poca Per notte, la luna, mezzogiorno, si mangiare La sera Cosa? Quando è successo? Cosa? 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 Frida Frida Grazie.